Interessante anche il corto in 3D Salve Regina di Laura Vispuri con Manuela Di Giacinto, Antonio Topitti e Carla Rastelli, passato nella sezione extra qui alla quinta edizione del Festival di Roma. La storia, in breve, è quella di una lei che ha un corpo ingombrante di cui sente tutto il peso e l'inadeguatezza. Per vivere pulisce la piscina e se ne muore dalla voglia di bagnarcisi. Lui vive su una sedia a rotelle e la guarda con desiderio. Un piccolo mondo limitato e restritto in cui le arcaiche processioni rivelano la brutalità e l'urgenza di bisogni e desideri che vengono fuori anche da un discorso con la cugina magra e arrabbiata che le vieta di raccogliere il fazzoletto che le è caduto perché ormai sporco, che sarà invece raccolto da lui dopo e che glielo renderà in piscina. Il resto è da vedere per non sciupare il liberatorio finale che, scommetto, non indovinereste mai. Grazie a tutti.